L'evasione fiscale è da sempre una delle peggiori piaghe economiche e sociali ed un freno per le politiche di sviluppo. Dal Comune di Napoli parte un'azione mirata per il recupero dell'evasione fiscale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, il Comando regionale della Guardia di Finanza ed Equitalia Sud. Lo strumento è il protocollo d'intesa siglato stamattina fra le parti. Dopo il lavoro già fatto per creare anzitutto archivi informatici che dialogassero all'interno dell'amministrazione comunale, l'intesa prevede una serie di misure e procedimenti che puntano all'incrocio delle banche dati e da procedure di segnalazioni qualificate secondo il tipo di evasione. Altri strumenti che adotterà il Comune per migliorare i procedimenti di accertamento e riscossione sono la revisione della toponomastica ed in particolare della numerazione civica ed altri interventi che risolvano il problema delle notifiche. Le intese tra amministrazioni sono previste dalla legge per sfruttare il patrimonio di dati e informazioni dei Comuni e far emergere l'evasione ed il 100% del riscosso da segnalazione tornerà al Comune che ha avviato il procedimento. La Guardia di Finanza interverrà con i suoi controlli di interventi operativi in caso di ulteriore necessità di azione investigativa, mentre se la segnalazione costituisce già base di accertamento si attiverà direttamente l'Agenzia delle Entrate. È un punto di arrivo di un lavoro che abbiamo fatto insieme tra istituzioni, adesso abbiamo formalizzato. I primi risultati sono molto positivi, soprattutto da un punto di vista del collegamento informatico tra le banche dati, gli incassi che stiamo avendo importanti sulla tassa di soggiorno, complessivamente sulle contravvenzioni stradali e nel mettere in circolo le informazioni. È fondamentale in un momento di crisi che tutti contribuiscono a pagare le tasse, in modo che chi le paga le pagherà di meno e poi noi come amministrazione comunale valorizzare anche il patrimonio immobiliare. Sono le due leve che ci rimangono, patrimonio immobiliare e incasso dei tributi. Chi fa il proprio dovere, chi è una persona per bene da questo protocollo non può che stare più sereno e anche più contento, perché se raggiungiamo l'obiettivo le persone per bene pagheranno meno tasse.